I diritti in diretta, in collaborazione con Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì con le tutele, i diritti, le previdenze e quanto più vi interessa conoscere rispetto al mondo legato all'attività di patronato e non solo. Stasera con me e con voi Ilaria Rabitti ci terrà compagnia e mi aiuterà a rispondere alle domande che volete porci in diretta allo 0522 304441 per parlare con noi in studio al 3421995675 invece per poter dialogare con noi attraverso sms e whatsapp. La novità della settimana ovviamente rilevante continua a circolare intorno alla conversione in legge del decreto 4 che si chiama legge 26 del 2019. I contenuti di questa legge sono non solo di carattere previdenziale ma anche di carattere assistenziale, diviso lo abbiamo detto ripetutamente in due titoli. Il titolo primo che riguarda pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza soprattutto il secondo che è la parte più corposa della norma. Il titolo secondo invece che affronta le normative previdenziali in aggiunta alla Fornero e ha parziale modifica di essa nel senso che è contenuto anche un articolo che va ad eliminare gli aumenti di aspettativa di vita fino al 2026. Pertanto i requisiti restano fissati per l'anzianità Fornero, quella cosiddetta anticipata, 41 anni e 10 mesi per le donne più 3 di finestra, 42 e 10 per gli uomini più 3 di finestra. Siano essi lavoratori dipendenti o autonomi non importa. A questa norma si aggiunge la famosa e famigerata quota 100 che ha diversi meccanismi a seconda che si tratti di ente pubblico o privato e dopo con Ilaria faremo il punto della situazione per quanto concerne l'ente pubblico e l'opzione donna che è l'altro passaggio previdenziale che si aggiunge alla Fornero che non è una vera e propria proroga dell'opzione donna ma è una possibilità di accedere nuova, è un unatantum, la potremmo definire così, solo a particolari condizioni di età e contributive che devono essere perfezionati al 31 12 2018. Nell'arco della serata ne parleremo perché questa è una normativa trasversale anche per l'ente pubblico oltre che per l'ente privato. L'altra norma contenuta, non ce la scordiamo, è legata appunto alla proroga anche per il 2019 dell'APE sociale e quindi anticipo pensionistico previsto a quattro particolari condizioni perché ha almeno 63 anni di età è una contribuzione che va da 30-36 a seconda della collocazione della casistica in cui mi trovo e un altro tassello che ha, come dire, creato grande curiosità è questa nuova modalità di accesso al riscatto di laurea. Lo dico perché sono venuti in tanti allo sportello a chiedere notizie delle lucidazioni. La circolare non c'è ancora. Stiamo aspettandola perché ne è uscita una ai primi di marzo ma quella circolare non teneva conto della conversione in legge. Quindi l'Inps ne dovrà necessariamente mettere un'altra. Quindi magari nell'arco della serata, se arriverà una chiamata in tal senso, magari lo svilupperemo meglio. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Sì, pronto. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiederle un'informazione, se è possibile. Prego. Io sono un dipendente per ospedale, sono. Io il primo di ottobre vado in pensione. Io volevo chiederle un'informazione. Se durante nel periodo estivo dovessi andare, non so, anche tipo alla vendemmia o una roba del genere, possono darci lo stesso o ci sono dei problemi con l'azienda oppure con l'azienda, ecco. Ma lei ha già dato le dimissioni? Ho già dato le dimissioni, ho già dato le dimissioni. Vado in pensione con il primo, l'ho già firmato anche, vado in pensione con il primo di ottobre. Ok, hai tutti gli elementi, Laria. Do la parola alla mia collega che le dà una risposta volentieri. Sì, grazie, è stato sentiero. Grazie a lei. Grazie, salve, salve. Allora, non è tanto un problema di pensione, è un problema nei confronti dell'amministrazione pubblica. Nel senso che i dipendenti pubblici, per poter fare un altro lavoro oltre a loro, devono chiedere un'autorizzazione all'amministrazione d'appartenenza. E se sono un tempo pieno, sicuramente non ho diritto a fare altre prestazioni, anche se in questo caso parliamo di una vendemmia. Se sono un part-time, io sono obbligato e tenuto a comunicare al mio ente che vorrei prestare un'altra attività. questo per disposizioni proprio di norme contrattuali che non prevedono comunque un lavoro parallelo a quello svolto nell'amministrazione pubblica. Questo vale per tutte le posizioni. Io devo essere autorizzato dalla mia azienda a poter svolgere, anche se solo per pochi giorni, l'attività. Nel caso in cui non chiedo l'autorizzazione e l'azienda fa i controlli, si potrebbe rischiare comunque delle sanzioni dei disciplinari, soprattutto. Quindi lui potrebbe chiedere l'autorizzazione in via preliminare prima di svolgere l'attività, qualora fosse positivo potrà svolgere tranquillamente, qualora non lo fosse ci fermiamo. Esatto, perché comunque lui ha dato un preavviso ma è in carico all'azienda USL ancora, quindi è dipendente dell'azienda USL. Sì, mi raccomando, perché insomma è vero che a questo punto siamo a fine carriera lavorativa, però posticipiamo magari questa scelta in un momento successivo. Magari la vendemmia prossima. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Io telefono per mia figlia e volevo sapere quando potrà andare in pensione. La mia figlia è nata nel 65 e ha cominciato a lavorare nel 1980 e ha fatto 5 anni di apprendista, poi operaia dipendente, mamma. Dipendente. E ha sempre lavorato? Come? Ha sempre lavorato? Sì, sempre lavorato. In due abbriche diverse, però insomma ha lavorato. Adesso che attività svolge, signora? È sempre in officina, lavora. Ok, quindi non ha una mansione gravosa di quelle elencate nelle famose categorie gravose. Ha un'invalidità del 50%. Ok. Nel 2008 è stata asciuta col collocamento in RAT. Va bene. Ahimè il 50%, seppur è un'invalidità rilevante, non ci aiuta a costruire un requisito anticipato rispetto a quello ordinario. Pertanto, qui si tratta di calendarizzare la scadenza dei 41 anni e 10 mesi, che se è tutto pieno è molto vicina, nel senso che dovremmo arrivare al 2020 ad avere il requisito contributivo necessario a fine 2020, prima di 2021, insomma a seconda di come controlliamo la posizione. Perché lì dovrebbe appunto verificarsi. Sì, se non ha interruzioni. Esatto, se non ci sono interruzioni, poi ci saranno i tre mesi di finestra. Io le consiglio già di fare un passaggio al patronato per fare una prima verifica, se non l'ha già fatta di recente, in modo tale da... Veramente è andata di recente, patronato, ma gli ha detto che tanto di mettersi tranquillo che c'è ancora tanti anni. Beh, insomma, se ha cominciato nell'80, tanti tanti no. Eh, insomma, le hanno risposto così. Lei, non tanto adesso non sta molto bene, insomma, vorrebbe possibile che sia una svolta, ecco. No, no, l'importante è che tutto sia pieno, perché io parto dal presupposto che dall'80 a oggi la condizione contributiva sia tutta piena. È chiaro che se ho dei vuoti cambia, eh. Penso come vuoti, adesso io non lo so di preciso. Che abbia una settimana, quando ha fatto da una fabbrica all'altra, insomma. Ok, però se, per quanto sia giovane, siccome ha cominciato a lavorare molto presto... Sempre tutto a posto, cioè sempre... Se è tutto pieno, al 2020 sono 40, al 2021 sono 41, siamo giù di lì, ha capito? Quindi io un passaggio lo farei al di là dell'età anagrafica, perché è vero che ha cominciato presto, quindi siamo già in una condizione di controllo attento della posizione ed eventualmente di emissione dell'estratto conto certificativo. Perché, peraltro, poi non essendoci più gli aumenti di aspettativa di vita fino al 2026, tutte le valutazioni fatte anche solo l'anno scorso sono cambiate. Ho capito. Ha capito? Quindi il consiglio è proprio di rivederla un attimo per vedere se è tutto pieno e se quindi quello che ci siamo detti io e lei stasera è corretto. E dopodiché mettere insieme la decorrenza di pensione. Non è vicinissima, perché non è domani, ma non è nemmeno troppo distante. Va bene, grazie. Niente, grazie a lei. Perché questo è un lavoratore precoce. Poi l'80 mi sembra si aveva già compiuto i 16 anni perché c'è questo passaggio, però insomma siamo lì, è bene controllarla. Poi lo diciamo spesso e volentieri. Le posizioni ogni 5 anni andrebbero sempre verificate per effetto del fatto che poi se ci sono problemi di aggiustamenti o sistemazioni di estratto diventa complicato poi in parte perché potrebbe esserci una sorta di prescrizione che me lo impedisce e quindi non ho più modo di agire eventualmente sul datore di lavoro. Dall'altra parte, anche solo se dovessi fare degli aggiustamenti, poniamo il caso che la ditta che magari non ha comunicato correttamente quel dato reddituale non sia più reperibile, non sono in grado magari di sistemare una maternità piuttosto che un periodo di allattamento. Quindi teniamo i 5 anni che sono il termine ultimo. Invece se dovessimo lavorare per un'azienda che purtroppo dovesse chiudere per mille motivi, questo controllo è bene farlo prima che l'azienda chiude in modo che siano reperibili dati e ci consentano insomma un po' di ricostruire con attenzione la posizione. L'ho detto prima e io la domanda te la pongo, nel senso che abbiamo detto sull'ente pubblico si è fatto un gran parlare di questo allungamento rispetto invece alle pensioni private perché dal primo di aprile le prime quote 100 sono già state erogate, tra l'altro in condizioni ancora di non certezza di cessazione dei rapporti di lavoro, speriamo che sia andato tutto bene, però è vero che sull'ente pubblico invece abbiamo un differimento, le prime decorrenze le vedremo in agosto. Come siamo messi lì con le lavorazioni di l'aria? Allora, l'Inps si sta impegnando molto direi e direi che secondo me con agosto i primi appunto quote 100 che avevano deciso di uscire riceveranno tranquillamente la loro pensione. Quindi stanno lavorando in modo di arrivare pronti e anche gli enti hanno collaborato molto e quindi la situazione direi che per quanto riguarda il discorso delle pensioni non dovrebbero esserci comunque problemi. Assolutamente, noi lavoriamo, cioè si lavora in maniera diversa rispetto al privato perché l'amministrazione comunica già preventivamente all'Inps il discorso della dimissione e quindi questo controllo viene fatto in anticipo e siccome comunque l'Inps sta già lavorando oggi per esempio già le rate di giugno, per agosto direi che sarà pronta per liquidare le prime quote 100. Sì, diciamo che l'Inps è arrivato prestissimo, tra l'altro seguivo una trasmissione domenica sera alla quale c'era il pensionato quota 100 che aveva già ricevuto la pensione, c'era un pensionato che aveva una decorrenza 2018 che non aveva ancora ricevuto la pensione, c'era questa contrapposizione tra le due posizioni. È vero che ci sono molte anticipate che ancora non hanno avuto risposta a differenza delle quote 100 che non hanno neanche dovuto attendere le cessazioni per vedere la liquidazione, però l'abbiamo detto ripetutamente, qui l'Istituto non ha responsabilità, ha seguito un preciso ordine che veniva dal Ministero e che diceva dovete liquidare, liquidare, liquidare solo le quote 100 prima di tutto il resto. Quindi qui le sedi non hanno purtroppo responsabilità, hanno solo seguito una direttiva che veniva da più in alto e hanno dovuto assolutamente tenerci fede, insomma non hanno potuto agire diversamente. Invece il personale della scuola, quello aveva già cessato tutto, abbiamo terminato diciamo la fase clou per le dimissioni il 28 di febbraio, in queste settimane stanno già arrivando le comunicazioni alle scuole di verifica del requisito per le domande fatte entro dicembre, quindi non parliamo adesso di quote 100, ma quelle prima e nelle prossime settimane arriveranno le comunicazioni anche per le quote 100 e tutto il resto che ha fatto appunto domanda di dimissioni entro il 28 di febbraio, anche perché anche in questo modo qua, cioè diciamo che l'Inps si è data parecchio da fare, per quanto riguarda la gestione pubblica, sta sistemando tutte le posizioni, come sempre in questo periodo diciamo che dà la priorità al personale della scuola perché sono numeri importanti e siccome loro hanno appunto delle scadenze calendarizzate anche con il Ministero, per quanto poi riguarda il discorso delle emissioni ruolo, del nuovo personale, quindi sono diciamo che l'Inps e il Ministero devono viaggiare abbastanza in parallelo per poter dare poi modo con l'inizio dell'anno scolastico di provare... Per trovare scuole sguarnite, questa era la preoccupazione che i nostri colleghi tra l'altro della categoria sindacale hanno... Assolutamente, quindi sta lavorando per avere tutto pronto per il primo di settembre, io dico sempre, ci sta impegnando, credo che per il primo di settembre la stragrande maggioranza avrà la pensione liquidata, potrebbero al massimo ritardare di un mese, ma con poi gli arretrati, ecco, ma li è dato proprio da questa campagna straordinaria che è uscita. Ad oggi non abbiamo riscontrato ancora problemi. Di nessun tipo, questo va già bene nel senso che, come dire, sempre le preoccupazioni al momento in cui devo ricevere la prestazione ci sono. L'unica cosa che mi preme casomai dire, perché a volte telefoniamo anche noi, però stanno appunto lavorando anche tutte quelle domande di ricongiunzioni, di riscatto fatti per raggiungere appunto il requisito che sia di quota 100 oppure dei 41 anni e 10 mesi per poter poi liquidare la pensione appunto in modo corretto. Quindi queste persone che casomai ricevono il provvedimento, se non sono ancora state contattate da noi, di chiamarci in modo da poter dare anche noi una risposta tempestiva poi all'Inps di accettazione oppure no del provvedimento di riscatto di ricongiunzione in modo che loro possano poi completare la posizione per poi dare luogo alla liquidazione della pensione. Pongo questa questione che ha posto un telespettatore che giustamente si interroga sul valore della finestra trimestrale. Allora lui maturerà ai 41 anni e 10 mesi, si pone la questione legata ai tre mesi di finestra, chiedendoci ma poi riceverò gli arretrati. No, la finestra di tre mesi è come se fosse un'attesa alla decorrenza di pensione, mature 42 anni e 10 mesi. Dopo tre mesi mi pagano la pensione, ma non è che quando me la pagano mi riconoscono i tre mesi precedenti. Quei tre mesi sono dei neutri dal punto di vista del pagamento, potrò continuare a versare i contributi e mi saranno riconosciuti ovviamente nel calcolo della pensione, potrò smettere a 42 e 10 e aspettare tre mesi senza salario e senza pensione. Ma non è che quando è trascorsa la finestra mi riconoscono un arretrato, fa proprio parte della struttura della pensione. Diciamo che le finestre ce le eravamo un po' dimenticate perché dopo la Fornero erano state in un qualche modo messe nel cassetto, esistevano ancora solo per alcune normative ma non per tutte, qui esiste solo il ritorno appunto alla finestra in funzione dei tre mesi. Tra l'altro una finestra mobile perché una volta c'erano le quattro finestre annuali, oggi una finestra mobile decorre tre mesi dopo la pensione e la maturazione del requisito. Quindi in questo caso Luca dovrà attendere i tre mesi successivi alla maturazione del requisito per poter avere la prima pensione senza arretrato. Poi è chiaro che se vorrà dare continuità tra salario e pensione lo potrà fare. E la finestra trimestrale, lo diciamo per chiarezza perché qualche confusione anche qui è stata fatta, esiste ancora per tutto perché i sei mesi di finestra anche per l'ente pubblico sono solo legati alla quota 100. Solo ed esclusivamente alla quota 100. Lo ripetiamo Ilaria perché c'è un po' di confusione di bailam da questo punto di vista, un po' perché anche la comunicazione magari non è stata precisa. Chi matura il requisito, chiamiamolo fornero con riduzione, quindi 41 anni e 10 mesi per le donne e i 42 anni e 10 mesi per gli uomini, hanno tre mesi di finestra mobile. Quindi dalla maturazione del 41esimo anno e 10 mesi, dopo tre mesi ho diritto alla pensione. Mentre per quanto riguarda la quota 100, solo ed esclusivamente per i dipendenti pubblici, sono sei mesi di preavviso che io devo dare alla mia amministrazione. Ok, quindi questi sei mesi sono come una finestra, quindi maturo il requisito, devo comunque dare sei mesi al mio ente per poter poi stare a casa in pensione. Questo vale solo per l'ente pubblico perché invece per l'ente privato restano prefissati gli stessi criteri della finestra trimestrale, quindi questa è un'eccezione, mettiamola così, che però vale solo per la quota 100 e non per tutte le altre prestazioni. Esatto, esatto. Perché la quota rosa c'è al suo anno 16, voi solo l'anno perché avete solo la contribuzione tutta dipendente. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Io vorrei sapere una cosa, hanno detto che vanno vicino alle pensioni di 1500 euro. Sì, lei è già in pensione? Sono quelli superiori, 1500 euro e inferiori. Allora, glielo spiego volentieri perché è uno degli argomenti che ha un po' creato anche qui molta attesa perché era prevista, come dire, una riduzione degli assegni, in realtà chi sarà interessato alla riduzione sono coloro i quali superano i 2537,10 euro di reddito lordo da pensione perché nel caso in cui la pensione sia inferiore a questa cifra non c'è una riduzione ma in qualche caso una cifra identica, e questo fino a tre volte il trattamento minimo un leggero aumento da 1522 fino a 2537. Ora, dal primo di aprile queste prestazioni sono già state ridotte nel senso che la pensione ha già ricalcolato ciò che la legge finanziaria di dicembre ha corretto rispetto alla circolare IMSS di novembre che prevedeva l'aumento dell'1,1 a partire dalla prima fascia di reddito, quindi dalle prime pensioni. Cos'è che accade? Accade che a gennaio le pensioni vengono perequate sulla base della circolare IMSS l'1,1% fino a tre volte, il 90% dell'1,1% fino a cinque volte poi il 75% e infine mi pare il 45% superiore a cifre a nove volte. Oggi c'è una rideterminazione di quella soglia dell'1,1% viene ripartita in modo diverso lo leggo, mi scuserete, ma perché sono numeri abbastanza rigidi e quindi li leggiamo per non sbagliarli fino a 1522 lordo, stiamo sempre parlando di cifre lorde, la pensione aumenta sempre dell'1,1% quindi per questi soggetti nulla cambia ciò che è stato dato e ciò che resta, la cifra invece di pensione che va tra 1522 e 2029, qui sempre parliamo di cifra lorda, verrà leggermente aumentata perché avremo il 97% dell'1,1% riconosciuto da 2000,29% a 2537% avremo invece ancora lì un leggero aumento avevamo avuto il 75% dell'1,1% oggi abbiamo il 77% parliamo di uno zero virgola quindi ve ne accorgerete pochissimo la riduzione comincia a sentirsi perché da 2537% come dicevo prima a 3044% avremo il 52% dell'1,1% quindi uno zero 52% di aumento qui la pensione diminuisce il debito che si è venuto creando da gennaio ad aprile, quindi da marzo in realtà perché sono tre mesi ve lo tratterranno ma un pochino più avanti dopo le elezioni europee e qui ho detto tutto e chiudo la parentesi andando avanti abbiamo ovviamente anche qui uno scaglionamento inferiore qui vedremo le diminuzioni più grosse sulle pensioni oltre i 4569 avremo una riduzione allo 0,40% diciamo di quello che era l'1,1% avevamo avuto un aumento invece del 75% quindi qui c'è il grosso della diminuzione è chiaro che l'intervento era legato alla finanziaria, era legato alle pensioni d'oro, a tutto quello che stava dentro questo pacchettino di norma oggi voi vedrete aprile un calo ma ripeto non per tutti, solo per pensioni oltre una certa soglia quindi in tanti casi un pochino di aumento c'è stato anche lì uno 0, quindi magari non ve ne siete accorti ma non c'è stata una diminuzione, diminuiscono da quella cifra che abbiamo detto avremo occasione di riparlarne appena sapremo la data nella quale saranno poi trattenuti gli importi a debito è chiaro che chi se ne accorgerà di più sono le pensioni più elevate su questo pochi dubbi ci sono se non sbaglio mi hanno segnalato una telefonata la prendo volentieri, scusate se mi sono dilungata ma era per finire l'argomento pronto? pronto, buonasera buonasera a lei, prego io vorrei un'informazione sulla pensione quota 100 sì io ho ricevuto la rata già dal primo aprile sì e ho controllato sul cedolino tramite il PIN ho controllato il cedolino paga per controllare in pratica le voci, le trattenute e tutto quanto non ho visto, non ho trovato né le tasse regionali né le tasse comunali bravo, è una domanda molto pertinente perché così ci piace anche dirlo perché questa è un'interessante riflessione ma va bene così, le dico già che va bene così poi Ilaria le spiega perché perché insomma questa è una norma fiscale nel senso che in realtà però è giustamente lei lo rileva perché venendo da un'attività di lavoro dove le ha sempre pagate si è posto il problema glielo diciamo volentieri allora diciamo che il primo anno che si va in pensione le addizionali regionali e comunali sulla pensione non le vedrete trattenute questo perché? perché le tasse alla regione e al comune si pagano sempre l'anno successivo riferite all'anno precedente quindi diciamo che sull'ultima busta paga del datore di lavoro c'è il conguaglio delle addizionali regionali e comunali quelle che non ho fatto in tempo a pagare esatto e quindi sono già state trattenute e sulla pensione io non le avrò trattenute cosa succede? succede che l'anno successivo le tasse diciamo sempre alla regione e al comune l'IMS me le trattiene per la quota di pensione che mi ha pagato quindi sul reddito che io ho percepito solo ed esclusivamente di pensione nell'anno precedente in sede di denuncia dei redditi verrà effettuato il conguaglio fiscale quindi diciamo che questo signore per da aprile a dicembre non vedrà la trattenuta l'anno successivo inizieranno a partire non è detto che siano quelle corrette certo ok avrà però il conguaglio fiscale sulla denuncia dei redditi e questo è una certezza quindi diciamo che l'anno successivo ancora si è a regime quindi si dovrebbero avere tutte le tasse perfette trattenute sulla pensione questo è diciamo perché tanti chiamano e dicono ma non ho mai la pensione uguale un mese ho un importo un mese ho un altro è vero e diciamo che per il primo anno e mezzo normalmente è così anche un po' dopo qualche volta perché ci ho potere giustamente ci deve essere questa stabilizzazione del reddito su cui appunto applicare correttamente tutte le tasse diciamo che le addizioni delle regioni come me sono il quibus che sempre il secondo anno vi abbassa la pensione esatto ma non vi preoccupate perché se non ve le hanno trattenute sulla pensione poi ve le trattengono sulla denuncia dei redditi perfetto quindi non scappiamo da ciò non scappiamo mai viene sempre messo a posto però per il signore è corretto che non ce le abbia bene prendiamo la telefonata che c'è in linea è pronto è pronto buonasera buonasera senta io volevo sapere gentilmente una cosa sì mia madre è deceduta nel 2017 sì allora però ha lasciato un bel debito da dare all'IMS sì un bel po' allora io volevo sapere gentilmente io non c'ho niente né casa né macchina niente mia sorella non vuol sapere niente allora io volevo sapere però abbiamo una casa in Puglia allora questa casa non è un granché allora io sono andata all'IMS e a dirgli che io mia madre è deceduta io sono nulla tenente che non c'ho niente e sono 30 mila euro che deve dare all'IMS allora io ho detto per te che viva a casa ho detto io allora loro mi hanno detto devi prima vendere una volta che lei ha venduto poi si procede oppure lei fa la rinuncita la rinuncia dei beni non si può più fare ecco io volevo sapere ma come devo reagire? come funziona questa cosa qua? no allora aspetti signora intanto se lei ha accettato l'eredità l'ha accettata con debiti e crediti pertanto quando è entrata in successione purtroppo se io avevo dei debiti pendenti in qualità di dante causa vengono acquisiti dagli eredi in misura proporzionale alle quote ereditarie quindi ognuno reagirà rispetto a quella situazione per la propria quota quindi se siete due sorelle piuttosto che tre quel debito verrà ripartito sulla base della come dire asse ereditario questo è il primo punto sempre che io abbia fatto un atto successorio di un qualche tipo se non ho fatto niente il problema è che temo che il termine per poter chiedere la rinuncia all'eredità sia scaduto se la mamma è deceduta nel 2017 no no abbiamo fatto successione sì 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 quindi è quello cioè avere accettato l'eredità vi rende assolutamente debitori insolido con l'istituto come farete a liquidare quel debito io non ve lo so dire nel senso che bisognerebbe capire ma è chiaro che l'istituto ha da pretendere quel credito nei confronti degli eredi lì bisogna far riferimento io glielo voglio io la casa gliela voglio dare a me non mi interessa no no signore ho capito però bisogna risolvere il problema naturalmente con un notaio e con una vendita io non so dirle in questo senso però l'istituto ha tutte le credenziali per richiedere quel credito ah ecco mia sorella ha detto no quando passano gli anni l'IMS non vuole più niente beh non proprio signora perché poi quando trascorrono i tempi che per loro sono quelli della prescrizione fanno partire l'azione giudiziaria e quella blocca qualunque termine di prescrizione possibile quindi assolutamente nel senso che se l'istituto ha rispettato i termini lei deve rispondere appunto lei e gli altri eredi insolido a quel debito quindi devo andare dal notaio e fare la rinuncia no 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 non la può più fare la rinuncia signora perché ha già accettato l'eredità quando lei ha fatto la successione lei è diventata assolutamente debitore insolido non può più rinunciare all'eredità una volta che ha accettato con la successione e quindi che devo fare? ah quel debito va estinto in un qualche modo con l'istituto quindi dobbiamo vendere e poi dopo quello io non glielo so dire però bisogna concordare con l'istituto la restituzione di quel debito ma la successione andava fatta lo stesso no signora non sono obbligata a fare la successione la faccio se la voglio fare se non la faccio quel bene va perduto però nel momento in cui io faccio un atto successorio mi sono come dire impegnata ad essere erede in qualità di erede accetto crediti e debiti però signora è troppo tardi ahimè quindi lei bisogna che faccia riferimento ad un legale in questo caso per vedere se ci sono dei cavilli ok va bene la ringrazio tanto e complimenti per la trasmissione grazie la saluto buona serata anche a lei ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità ci vediamo tra poco riprendiamo la diretta abbiamo aperto attraverso anche le vostre telefonate cominciando a trattare dei temi che contengono non solo la norma del decreto 4 appunto convertito in legge 26 del 2019 ma è arrivata anche un interessante telefonato di un telespettatore che chiedeva appunto e abbiamo fatto un po' il punto anche sulle rivalutazioni delle pensioni che è un altro argomento molto importante nel corso delle prossime settimane lo riprenderemo evidentemente un argomento di interesse però un primo punto è importante qualcosina è già accaduto ad aprile prendiamo la telefonata che c'è in linea pronto? buonasera buonasera a lei volevo chiedere adesso con quanti anni si va in pensione quanti anni ci vogliono i contributi per andare in pensione? è una domanda molto complessa nel senso che esistono diverse se possibilità di accedere alla prestazione pensionistica che sono legate alla posizione personale del soggetto che ne richiede appunto la valutazione ci dice qualcosina rispetto a lei se la domanda era per lei? no è per mio marito però voglio senza penalizzazione ovviamente non esistono più non esistono più non ci sono penalizzazioni di sorta esistono calcoli di prestazione pensionistica in funzione degli anni versati quindi se uno ha 42 anni di contributi non è penalizzato anche se ha 62 anni di lavoro 62 anni di età no cioè se lei vuole andare con la quota 100 se questa era la domanda ho 62 anni di età e ho almeno o più 38 di contributi oggi chiedo la prestazione pensionistica perché ho raggiunto quel requisito richiesto da quella norma aspettando i tre mesi piuttosto che i sei se parliamo dell'ente pubblico l'importo della pensione è erogato in base ai versamenti effettuati fino alla data del pensionamento senza penalizzazione potrei avere un importo un pochino più basso perché mi mancano dieci mesi un anno di versamento contributivo ma non è una penalizzazione è che non ho versato quel tot in più per arrivare all'altro requisito e quindi quanti anni appunto contributivi ci vogliono per non essere penalizzati 42 anni e dieci mesi 42 anni e dieci mesi nel senso che cioè se suo marito ha 42 anni e decide di andare via con la quota 100 gli mancherebbero dieci mesi no 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 vuole arrivare alla fine ok allora deve fare 42 anni e dieci mesi e la finestra ma quello che stava dicendo Cinzia è che non ha penalizzazioni fisse ok se io decido di andare via con la quota 100 avrò un calcolo leggermente inferiore rispetto alla pensione anticipata dei 42 anni e dieci mesi perché la mia pensione viene calcolata con i contributi fino alla data di cessazione quindi è chiaro che se ne ho 38 avrò un calcolo se ne ho 42 ho un altro tipo di calcolo paradossalmente per farvi comprendere meglio se io versassi 44 anni di contributi e decidessi di andare dopo il 44esimo anno avrei una pensione più alta ma perché ho versato di più ah ho capito è tutto lì quindi non c'è un tetto fisso no 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 io posso stare a lavorare qui all'eternità ci sono alcune situazioni negli enti pubblici peraltro dove abbiamo dei professionisti che decidono di restare fino a che l'ente non mi colloca a riposo troviamo situazioni dove io ho ben più dei 42 anni e dieci mesi quindi insomma ha capito non c'è questa preoccupazione lui deve far quello che ritiene più opportuno per se stesso in questo caso ho capito quindi più berse più prende quando andrà in pensione chiaro va bene grazie mille grazie a lei buona serata quasi sempre in realtà in alcuni casi bisogna ricostruire ecco perché quando diciamo che ogni posizione è un mondo a sé è perché è vero ogni posizione crea e costruisce l'importo della pensione il requisito di pensione potremmo anche trovare situazioni dove ci sono normative molto sconosciute e qui faccio riferimento alla vecchia Fornero quella vecchia legata alla norma 2011 che poteva consentire in particolari condizioni di andare in pensione anche con un tempo anticipato ma qui sono gli addetti ai lavori che lavorano sulla posizione questo è il valore aggiunto per rivolgersi appunto al professionista che vi fa questo lavoro come noi e come il patronato prendiamo la telefonata che c'è in linea pronto? chiedevo un'informazione prego io sono un lavoratore dipendente mi marcano circa due anni per andare in pensione ho sentito che consigliate di richiedere l'estratto conto certificativo sì ho visto che io ho il PIN ho visto che l'estratto conto c'è quasi tutto ma riesco a richiederlo direttamente io questo estratto conto certificativo e come mi arriva a casa allora lei lo può fare grazie a lei lo può fare direttamente con il suo PIN dispositivo personale perché sono tutti PIN operativi cioè quelli che voi utilizzate nel sito esiste io adesso non so usarlo dal punto di vista del privato cittadino ma normalmente nel vostro albero di navigazione dove trovate il cassetto previdenziale dovreste trovare anche le domande da inviare si tratta della procedura di pensione perché è una vera e propria procedura di pensione devo dire la verità non l'ho mai usato il PIN dispositivo personale di un cittadino quindi non so dirle però lei lo può fare tranquillamente presso il patronato se lei è iscritto al sindacato in modo assolutamente gratuito nel caso in cui invece non fosse iscritto al sindacato di riferimento del patronato essendo una pratica ministeriale può avere un pagamento massimo di 20 euro quindi insomma perché è una pratica tra quelle collocate all'interno di un pacchetto particolare che non è convenzionato con le iscrizioni sindacali ma io ritengo che col suo PIN dispositivo lei la possa fare all'interno del sito sì secondo me nella barra di ricerca se digita estratto conto certificativo dovrebbe poi esserci tutta la procedura per e poi l'Inps in base ai recapiti che lei ha lasciato glielo invierà o tramite email ma di solito oppure nel cassetto post oppure nel cassetto delle comunicazioni sempre del sito dell'Inps no no assolutamente insomma il PIN dispositivo vi consente tranne rare situazioni che sono legate per esempio all'ape volontario dove serviva invece una procedura di autenticazione molto più particolare rispetto all'emissione appunto di quella particolare prestazione diciamo così non pensionistica ma di carattere sociale dove invece c'era bisogno di uno speed di secondo livello situazioni particolari qui invece per operare nel sito è sufficiente il PIN dispositivo personale è chiaro che noi come ha detto il lavoro non glielo consigliamo perché poi il controllo successivo va comunque effettuato presso un patronato di riferimento o qualcuno che possa aiutarla a leggerlo è vero che l'Istituto mi dà una somma finale mi certifica alcuni passaggi però poi ripetono la lettura specifica di quell'estratto sarebbe probabilmente più opportuno però insomma ognuno poi è libero di agire sulla propria posizione nel modo più personale possibile io ti pongo una domanda che ci pone una signora che è una dipendente pubblica Ilaria e dice io vorrei accedere all'opzione donna il suo preavviso punto interrogativo non lo sa ma qui è contrattuale bisogna vedere quale lente di riferimento e farà la domanda a metà maggio perché lei intende lavorare fino a dicembre quindi che tempi abbiamo da darle come indicazioni per il preavviso credo che debba fare riferimento in questo caso alla categoria sindacale il preavviso è sempre stabilito dal contratto quindi sicuramente le consiglio di contattare la categoria sindacale le dico che normalmente se è la persona che è da le dimissioni si dimezza quindi io nei vari contratti bene o male salvo che lei non sia un dirigente il preavviso che deve dare sono di circa due mesi poi per avere la certezza ufficiale può chiamare appunto come le dicevo il funzionario sindacale della categoria di riferimento che le dà la conferma se sono effettivamente due mesi o un mese o tre mesi si dipende un po' dal contratto esatto normalmente sono quattro mesi per legge che si dimezzano nel momento in cui è la persona che dà le dimissioni verifichiamolo ecco perché ogni contratto potrebbe avere delle situazioni a parte questo vale per l'ente pubblico naturalmente ha maggior ragione per il dipendente privato prendiamo la telefonata che c'è in linea pronto? è pronto buonasera io chiamo qua da Prevessetro di Parma dica pure bene salve io mi voglio sapere quanto mi manca andare in pensione oddio così ci vorrebbe una sfera di cristallo mi dia qualche indicazione che io ho cominciato a 14 anni a lavorare si e adesso ne ho 50 praticamente quando ero venuto un padre nato a sentirmi mi ha detto che ho fatto quasi 30 anni poi mi ha detto che mi mancava ancora 12 anni di lavorare si allora parlo io si non so però mi deve dire quando ha cominciato a lavorare l'anno eh ma ero giovane ero molto giovane avevo 14 anni no no però che anno era? ah sono andato nell'83 83 84 va bene quindi se lei ha cominciato a quella data deve considerare che la maturazione del requisito per un uomo salvo non ci siano particolari condizioni che però dovrà verificare chi le guarda la posizione assicurativa oggi sono 42 anni e 10 mesi fino al 2026 se ha cominciato nell'83 ed è tutto pieno dovrebbe maturare il requisito tra il 2025 e il 2026 è chiaro che bisogna controllare la posizione con attenzione partendo dal dato che lei ci ha fornito ogni due o tre anni lei controlla la posizione per verificare che non ci siano come dire situazioni da mettere in evidenza ma è ancora un pochino distante mi ha detto ok ok grazie a lei buona serata buona serata arrivederci diciamo che a noi qualche dato serve poi è vero che qui diventa difficile nel senso che poi la posizione assicurativa può avere all'interno della lettura situazioni da sistemare magari abbiamo necessità di verificare alcuni passaggi soprattutto nei primi periodi dove ancora il libretto di lavoro veniva utilizzato perché oggi il libretto di lavoro non si usa più ma nelle vecchie letture cominciano un po' a scomparire cominciamo già a vedere solo i DMD e CL del 1980 però insomma in realtà i mezzi Marche ancora qualche pezzettino ce l'abbiamo i servizi militari da far accreditare perché anche questi sono passaggi che magari ci siamo dimenticati di fare ma ci consentono di anticipare un po' il requisito e quindi se non avete più il congedo perché magari tra traslochi e quant'altro lo abbiamo perduto si può fare riferimento all'ufficio leva del comune mi fornisce tutti gli elementi possibili sull'ente pubblico invece l'area come si procede per il riconoscimento del servizio militare la procedura è uguale come per i privati sempre dal portale dell'Inps tutto uguale tutto uguale adesso si è parificato un tempo era una domanda da inoltrare tramite si chiamava anche diversamente una volta si chiamava computo dipende se sono un dipendente statale o un dipendente dell'ente locale quindi ancora così un dipendente statale o un computo però diciamo che oggi la procedura è la stessa per i dipendenti privati devo semplicemente andare a segnalare che lo voglio in gestione pubblica e non in gestione privata ormai si lavora tutto dallo stesso portale non c'è più differenza salvo alcune particolarità ma sono poche robe soprattutto in funzione lo dico perché così lo ribadiamo quando devo richiedere i permessi della legge 104 o i congedi a differenza del privato l'ente pubblico presento direttamente alla mia amministrazione il foglio di verbale che mi serve appunto come giustificazione all'assenza diverso è il dipendente privato che invece deve presentare opportuna richiesta all'istituto ed esserne autorizzato peraltro questa va fatta anche per quegli enti para pubblici che sono IREN l'ente poste è un altro ente che è un ibrido le farmacie comunali che sono le ex municipalizzate chiamiamoli così no no è importante dirlo perché poi dopo come dire resta nel ragionamento complessivo ci fermiamo qualche minuto per uno spazio pubblicitario e ci vediamo tra poco riprendiamo la diretta e riprendiamo subito con la telefonata che abbiamo in linea pronto signora senta io sono una novantenne sì e siccome ho di pensione con la visibilità di mio marito 755 euro 90 sì tutti parlano di questo 780 non lo so allora forse è una domanda non lo so no 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 allora le domande sono tutte legittime nel senso che uno si fa giustamente rispetto alla propria situazione perché io sono sola esatto quello che le chiedo sono sola vivo in affitto però questi 755 euro sono tutti qui è il netto che prende il lorde un pochino più alto 755 e 59 però questo sembrerebbe quasi un netto anche se così faccio fatica allora intanto lei può fare sicuramente un passaggio è proprietario dell'abitazione dove abito ma hai detto che è in affitto in affitto da l'ACE ok allora io le consiglio di fare due cose intanto fare l'ISE se non l'ha mai fatto no no l'ho sempre fatto l'ho già fatto anche quest'anno bene e ha avuto accesso alla social card come importo sì come importo no no ho fatto il 130 anche e con l'importo gli vengono indietro 150 euro va bene però l'importo dell'ISE se lo ricorda memoria cosa l'importo dell'ISE no memoria no dovrei andarlo prender fuori allora il consiglio è quello di fare un passaggio all'ufficio fiscale per leggere quell'importo ISE e per verificare se ha diritto a qualche bonus gas luce e tutte quelle l'ha già fatto anche quello della riduzione delle tasse dei rifiuti sì ok perfetto perché l'anno scorso so che quest'anno non ci saranno all'uso ho ricevuto 420 euro dall'INPS per la quattordicesima sì ok ma quella c'è ancora quella l'espetta ancora ah sì perbacco a quattordicesima a luglio a luglio la prenderà senz'altro sì a luglio quando manda la luce manda l'anuso alle volte manda la lettera alle volte manda i soldini senza la lettera ma la quattordicesima è una norma strutturale che non è oggetto di modifiche di nessun tipo perché allora c'era scritto che non sapevano per quanto potevano continuare no 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 quella gliela pagano signora stia tranquilla che quella a luglio arriva a meno che non venga abrogata ma lo stato attuale non è abrogata quindi c'è ancora c'è ancora per me sono tanti bene allora c'è ancora a luglio li prenderà per tutto il resto lei deve fare eh no va bene per tutto il resto bisogna che lei faccia riferimento al patronato appena avremo le modulistiche ma temo che lei arrivi a superare quella cifra che serve per raggiungere i famosi 780 sì ok le faccio molti molti complimenti perché nonostante l'età credo un interlocutore sono tanti e cinque anni beh devo fare i miei complimenti dopo se ci spiega come si fa mettiamo la firma sì ricordo così così va bene va bene buona serata signora grazie mille eh insomma però sono soddisfazioni anche avere come dire telespettatori così attenti e così pronti nonostante l'età non so se io e te poi no io non ho di sicuro prendiamo la telefonata che c'è in linea pronto? sì buonasera buonasera volevo porle qualche quesito dica io ho ricevuto la lettera dall'inps che mi dice che il primo novembre di quest'anno dovrei andare in pensione sì con i 43 anni e tre mesi adesso cos'è cambiato con la nuova riforma? che ci va due mesi prima due mesi prima sì quindi io praticamente dovrei andarsi il primo settembre sì nel senso che la normativa non ha modificato dal punto di vista come dire sono 42 anni e 10 mesi quindi cambia il requisito i tre di finestra che lei potrà decidere di lavorare oppure no questa è una scelta che fa lei però la decorrenza come dire anticipa di due mesi rispetto a quella già certificata eventualmente dall'inps preavviso la mia azienda sì io ho due mesi di preavviso quindi da quando decorrono? allora intanto ne approfitto della telefonata per dire questo passaggio che è importante in realtà io devo rispettarli in ascesa nel senso che devo rispettare lo spazio temporale da quando do il preavviso all'accessazione del rapporto di lavoro se sono due mesi e siamo a oggi che è l'8 di aprile devo come dire rispettare la calendarizzazione se voglio andare in pensione il primo di giugno piuttosto che il primo di luglio nel suo caso lei potrebbe anche dargli oggi facendo date riferimento alla data in cui intende chiudere il rapporto di lavoro ho capito ha capito però in teoria se lei ha due mesi li dovrà dare nel mese di giugno per intenderci partendo giugno luglio praticamente io dovrei dare già il preavviso lei lo dà a giugno per luglio e agosto con decorrenza primo settembre se voglio essere preciso con l'azienda ma io oggi potrei andare in azienda e dire io vado in pensione il primo di settembre faccio la procedura online nel portale perché non sono più cartacee le dimissioni ma devono seguire una procedura telematica nel portale del ministero del lavoro perché seguono particolari criteri appunto io potrei oggi dare le dimissioni facendo data al 31 di agosto se la normativa lo consente non mi pare che le dimissioni online lo blocchino se invece lei vuole far precisamente le cose come vanno fatte nel mese di giugno vado a dare le dimissioni a far data dal 31 di agosto ho capito ha capito benissimo la ringrazio molto buonasera a lei nel senso che le dimissioni non si danno più cartacee ormai dovrebbe essere diventata acquisita questa modalità ma per i dipendenti privati una volta davo la lettera al datore di lavoro e derò a posto adesso invece un pochino cambia per noi è ancora così invece ancora cartacee direttamente all'amministrazione all'ufficio personale però la differenza vedi che l'abbiamo poi trovata in realtà nel senso che alla fine l'abbiamo trovata allora mi raccomando l'abbiamo detto per la signora le ISEE e le DSU sono diventate sempre più importanti per tante prestazioni oggi ci dimentichiamo magari facciamo attenzione alla televisione al reddito di cittadinanza alla pensione di cittadinanza ma ci sono altre normative di riferimento che non sono scomparse i bonus gas e luce quelli di energia legati appunto al reddito e all'ISE sono ancora presenti è ancora presente oggi la possibilità di accedere allo sconto appunto sulla tassa dei rifiuti il CAF in questo caso è in grado di darvi una mano a riconoscere un po' i requisiti e a compilare le richieste e a presentare i diversi enti quindi insomma vero è la social card non è scomparsa vale qui per gli ultra 65 anni o per i figli inferiori ai tre anni è chiaro che la social card per gli ultra 65 anni deve anche leggere oltre il valore ISE di rispetto l'importo delle pensioni perché c'è un altro importo solle oltre a quello di cui va tenuto conto quindi insomma con l'ISE qualcosa in più su redditi bassi possiamo portare ancora a casa prendiamo la telefonata che c'è in linea pronto? la regia me l'ha segnalata o c'è? pronto? sì pronto buonasera io che amo la bagnola ho 83 anni dica signora sono sola e la mia pensione è due anni che è morto mio marito adesso sì era 1200 dopo ho mandato subito 100 100 sì e poi del primo gli davano 1200 1600 1800 delle volte sì adesso il primo di gennaio come tengono 150 euro anche il primo di aprile io non so perché allora provo a spiegarglielo ma naturalmente bisognerà che lei faccia un passaggio con la collega che provi a leggere un attimo i dati in modo più realistico però diciamo che la pensione di reversibilità prima che diventi un tutt'uno con la mia perché è come se gli ne pagassero una unica trascorre come Ilaria citava prima anche per le pensioni di anzianità un tempo pari al secondo anno barra terzo di percezione della prestazione affinché essa venga pagata diciamo in modo più regolare come importi siccome è diventata vedova circa due anni fa e immagino in corso d'anno lei il secondo anno di titolarità ha avuto un rapporto che può non essere preciso tra le addizionali e l'importo IRPEF lo dovrà essere da quest'anno perché qui insomma si manifesta una situazione un po' più stabile dal punto di vista degli importi l'anno scorso è accaduta anche una cosa un po' bizzarra su tanti bititolari l'istituto ha nella lavorazione del modello CU aperto le pensioni nel senso che le ha gestite in modo separato qualche volta questo ha creato nell'emissione del modello CUD alla fine dell'anno scorso quindi alla fine del 2018 qualche debito di carattere fiscale sull'ammontare complessivo delle due pensioni conguagliate quindi potrebbero essere accadute due cose la prima è che le addizionali regionali e comunali si sono messi in ordine come Ilaria diceva dal primo di gennaio di quest'anno e che magari la trattenuta IRPEF nell'anno 2018 non è stata fatta nel modo corretto naturalmente l'istituto è in grado di darmi questa risposta ma non me lo dà a casa perché ormai a casa non vi mandano più nulla occorre fare come dire accesso al portale IMS o attraverso il vostro pin dispositivo con i cedolini mensili oppure chiederlo direttamente all'istituto la collega è naturalmente in grado oggi di fare un conteggio sulla base dell'OBSM nuovo che sarà stampabile sabato non era ancora stampabile non so se lo sarà nei prossimi giorni ma alla settimana scorsa era stampabile la CU che è la certificazione ma non ancora l'OBSM per darle conto di quanto sarà l'importo della pensione questo purtroppo per chi accede alla pensione di reversibilità vale tanto nell'ente privato quanto nell'ente pubblico c'è sempre un problema di tassazione di cui tenere conto Ilaria cosa gli si può consigliare poco direi perché alla fine qua si tratta di fare i conti sì esatto consigliare alla fine non ci si può fare niente se non fare le comunicazioni corrette all'istituto ma nel primo anno e mezzo barra due è così cioè bisogna attendere che l'istituto metta insieme tutte le prestazioni e questo arco di tempo passa quindi può essere che per un periodo prendo un po' di più e poi dopo mi venga conguagliato il tutto ma lì non ci si può fare niente sono le procedure informatiche dell'IMS che essendo appunto il casellario centrale stabilito per trattenere tutte le tasse diciamo ci mette però un po' di tempo a fissare in maniera corretta questi importi diciamo che dobbiamo ricordarci sempre che nel momento in cui acquisiamo la titolarità di un'altra prestazione pensionistica in questo caso una reversibilità ma potrebbe essere anche un trattamento supplementare a titolo diretto quindi ci sono tante possibili casistiche nelle quali acquisisco un'altra prestazione pensionistica non è che la mia cala per effetto del fatto che mi calano la pensione aumentano le tasse su cui io pago che io pago su quella prestazione perché il mio reddito aumenta quindi siccome l'IMS si comporta come un sostituto di imposta come se fosse il ministero delle finanze per intenderci mi conguaglia già direttamente sulla prestazione e tutto in modo tale che se io non ho altre situazioni da mettere in evidenza attraverso la precompilata piuttosto che il modello unico e quindi dal punto di vista fiscale non ho spese da recuperare o situazioni per le quali pagare tasse non sono tenuto a farle quindi non sono più obbligato pertanto insomma è un avvicinarsi al cittadino in questo caso dell'istituto poi è vero che è fastidioso ma sono gli stessi soldini che pagherei in seconda battuta e proprio le tasse sul reddito prendiamo la telefonata che c'è in linea pronto? pronto? buonasera prego buonasera a lei voglio fare un'informazione sul part time dica io faccio part time 20 ore alla settimana sì e volevo capire come vengono conteggiati lì i contributi che mi è stato detto che non coprono tutto l'anno part time allora intanto non è il numero delle ore ma il salario che determina la copertura annua lei riesce a dirmi che salario percepisce? l'ordo o netto? l'ordo dunque l'ordo dunque l'ultimo era sui 11.000 euro a noi? sì all'anno allora se quello è il salario chiedo scusa IRPEF l'ordo senz'altro il dato previdenziale è più elevato quindi non ci sono problemi il suo part time dovrebbe uso il condizionale perché non sto vedendo ovviamente la carta coprire le 52 settimane in termini di diritto a pensione perché io ero andata non la sento più no scusami io ho fatto il prospetto sono andata all'IN ho fatto il prospetto no? sì mi mettevano 26 settimane no 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 allora aspetti il prospetto dell'INPS divide due situazioni diritto e misura allora diritto io maturo l'anno pieno circa con quel reddito che lei segnalava deve essere adesso non lo ricordo con precisione ma lei dovrebbe starci dentro invece il calcolo della pensione viene fatto con il salario effettivamente versato quindi quelle 26 che lei trova dovrebbe trovarne nella colonna misura sì misura e l'importo è chiaro che però quel part time andrà valorizzato sulla base del tipo di calcolo col quale lei accederà se parliamo di un part time a oggi è evidente che dal 2012 è tutto sistema contributivo è penalizzante se fosse un sistema invece misto bisognerà vedere la collocazione temporale delle quote di calcolo per capire che valorizzazione ha quel part time chi andava in pensione nel sistema retributivo col part time spesso e volentieri in pensione prendeva più di pensione che di salario perché la rivalutazione delle part time subisce degli strani meccanismi nel sistema di calcolo retributivo diverso è il sistema di calcolo invece contributivo dove la valorizzazione è l'accantonamento dei miei soldini meno accantono meno maturo in questo senso ha capito però viene coperto tutto l'anno per me per come me l'ha detto lei l'anno è pieno quindi non ci sono problemi va bene la ringrazio niente per bacco buonasera buonasera a lei anche nell'ente pubblico c'è questo aspetto per voi è un po' diverso però diciamo che noi non abbiamo i minimali esatto nel senso che bene o male i salari stanno tutti al di sopra e comunque non esiste il cosiddetto minimale contributivo quindi ai fini del diritto i part time valgono sempre l'anno pieno cambia anche per noi come per i dipendenti privati il quanto poi uno andrà a percepire certo giustamente una persona che ha lavorato tutta la vita a tempo pieno avrà un tipo di pensione rispetto a una persona che comunque ha lavorato per degli anni a part time quindi il part time incide sul calcolo della pensione non sul diritto allora stavo leggendo un messaggio scusate se ero assente un attimo ma volevo capire come era strutturato perché questo signore che andrà in pensione il primo marzo del 2020 ha lavorato dice inintorrettamente al 20 gennaio del 78 però il datore di lavoro negli ultimi 5 anni non ha versato tutti i contributi mensili cosa comporta? comporta che bisogna leggere la posizione nel senso che se non ha versato i contributi in modo corretto in taluni casi le aziende hanno dei differimenti di pagamento concordati con l'istituto pertanto se i flussi emensi sono arrivati correttamente sarà poi cura dell'istituto quella di verificare la correttezza dei versamenti contributivi non dovrebbe essere in discussione un diritto a pensione laddove ci sia una cosa che si chiama automatismo della prestazione che è qualcosa di complesso mi rendo conto ma entra nel merito del fatto che se c'è un momento di difficoltà dell'azienda ma l'azienda ha concordato con l'imps piuttosto che no e questo accade spesso nelle letture dei diritti per la disoccupazione si utilizza appunto questo meccanismo bene che questo cittadino verifichi attraverso una puntuale lettura delle posizioni inps e dell'estratto conto certificativo se effettivamente i contributi ci sono ma così vuol dire poco se ha tardato a pagare i contributi pagherà delle sanzioni il datore di lavoro ma non dovrebbe essere messa in discussione la posizione appunto dell'accesso a pensione ovviamente lo verifichi nel senso che ciò che sto dicendo non legge nulla in termini di carte quindi è bene fare una stampa ed eventualmente un passaggio all'imps per copiere meglio come è strutturata quella posizione ma direi che possiamo stare abbastanza tranquilli prendiamo la telefonata che c'è in linea pronto buonasera buonasera lei io al 31 marzo del 2018 avevo 32 anni e 7 mesi di lavoro ho anche un'invalidità del 67% io volevo capire cioè io devo per forza aspettare i 58 anni allora lei intanto quanti anni ha di età perché questo mi manca 54 54 beh diciamo che i 34 anni sono pochi perché mi dice 58 ma mi hanno parlato dell'opzione donna non c'è mica ancora allora adesso glielo spiego volentieri nel senso che sull'opzione donna ha ragione un po' di confusione c'è qualcuno l'ha data per scontate in termini di proroga non c'è nessuna proroga allo stato dell'arte nel senso che oggi possono accedere all'opzione donna solo le donne che hanno compiuto gli anni entro il 31-12 del 2018 ed erano nate entro il 31-12 del 60 se tutto lavoro dipendente 31-12 del 59 con anche contribuzione autonoma 35 maturate entro il 2018 eccetera eccetera se io non ho questi requisiti l'opzione donna per il momento non esiste non esiste ha capito ho capito e con cioè con l'invalidità non ci si può andare prima allora si può consigliarle di fare un aggravamento di quel 67 sempre che lei non sia stata assunta col collocamento mirato perché chiaro che in questo si sono stata assunta col collocamento mirato bisogna stare un po' attenti nel senso che quando vengo assunta col collocamento mirato se vado a abbassare quella percentuale potrei mettere in discussione la collocazione lavorativa quindi intanto prima di aggravare quella posizione è bene fare un passaggio medico legale per evitare che quella percentuale possa subire modifiche in diminuzione e mettere in discussione il rapporto di lavoro no no mi sono uscite altre cose per cui no no però la responsabilità la prende ovviamente il medico che fa il certificato ha capito è chiaro che se io un po' divento più grande le mie condizioni come dire sanitarie di solito non migliorano ma peggiorano quindi in senso generale il ragionamento che lei fa è corretto però è chiaro che prima ce lo facciamo dire da un medico non decidiamo così no no adesso già va bene allora se lei ha posto può decidere di aggravarla tenendo conto che per arrivare ad un come dire possibile beneficio di anticipo devo arrivare ad una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi sempre che lei sia una dipendente privata se invece lavora nell'ente pubblico la questione un po' cambia una dipendente alimentare privata quindi faccia un passaggio ovviamente di lettura dal patronato di verifica eventualmente di una domanda di assegno di invalidità per capire se ho raggiunto appunto quella riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi l'assegno di invalidità me l'hanno dato quindi ce l'ha l'assegno di invalidità sì me l'hanno dato e dovrebbe essere diventato anche definitivo quindi quella è già una pensione cioè pur essendo un assegno di invalidità è una prestazione pensionistica che già tiene conto della sua contribuzione se quell'assegno è definitivo addirittura lo scenario cambia nel senso che quella è la pensione che lei terrà fino alla vecchiaia è complesso io quando andrò in vecchiaia aumenta sì no ma aumenta già ogni 5 anni con i contributi che lei versa eh quindi diciamo che io la prendo prima alla decorrenza della vecchiaia si trasforma di titolo un po' aumenterà ma non tantissimo nel senso che avrò un'indicizzazione dei salari che produrranno sicuramente un potenziale beneficio economico ma oggi io già ricevo una prestazione economica eh come dire in via definitiva solo che io ho un problema non voglio temere lunga la telefonata no no ma lei verrà in ufficio e lo farà questa valutazione però è chiaro che quando io ho un assegno definitivo tutto il ragionamento sulla pensione di anzianità cambia però quando è diventato definitivo quando è diventato definitivo loro me l'avevano sospeso sì cioè per loro non ritenevano che doveva essere vera ancora sì avevo fatto il ricorso e invece mi era dovuto me l'hanno ridato però sono un po' in ballo perché non hanno inserito gli ultimi cinque anni di contributi che ho inserito nel 2017 e sto prendendo meno e siamo ancora in ballo con i ricorsi questo va bene purtroppo quando ci sono dei ricorsi amministrativi può esserci una condizione di ritardo anche rispetto ai riconoscimenti però se questo è davvero una prestazione definitiva si fa un ragionamento differente rispetto all'apertura cioè io avevo inteso che lei non avesse nessuna prestazione in pagamento qui invece essendoci una prestazione tutto il ragionamento cambia e quindi va fatto con tutte le decorrenze le contribuzioni e i pareri medico-legali certo ok ok bene molti auguri grazie buona serata ci fermiamo qualche minuto per l'ultimo spazio pubblicitario ci vediamo tra poco riprendiamo riprendiamo la diretta riprendiamo dando un'informazione non solo al telespettatore che ha lasciato il messaggio in segreteria alla collega Antonella Vacondio allora gli OBSM dovrebbero essere già teoricamente stampabili in realtà a tutto sabato perché io ho provato sabato non erano stampabili ci auguriamo che lo siano nelle prossime settimane non più tardi della metà del mese ve ne daremo conto però al momento non è possibile stamparli quelli di quest'anno quantomeno si possono vedere però quelli se il portale va perché alle volte ha difficoltà anche di accesso al portale quelli degli anni precedenti per chi è andato però in pensione quest'anno l'OBSM non lo vedete ancora così come non vedete l'OBSM di quelli che sono andati in pensione dopo ottobre 2018 perché ovviamente quella calendarizzazione non è possibile se vi serve si userà l'atto liquidatore della pensione dove è contenuto appunto l'importo della pensione l'ordo e netto con le trattenute che citavamo anche prima per gli altri casi prendiamo la telefonata che c'è in linea pronto? pronto? sì buonasera buonasera senta io chiamo per mia mamma perché oggi sono stata in banca e guardando la pensione che ha preso il mese di aprile il mese di marzo che ha preso sui 1.400 mi sono accorta che a febbraio a gennaio gli hanno pagato invece 900 euro tutti e due 913 euro ma ci sono stati dei conguagli allora intanto la sua mamma ha solo quella pensione ne ha più di una ha solo quella cioè praticamente è la sua con la cosa di mio papà perché purtroppo non c'è più però il papà quando è deceduto signora? due anni fa 2017 allora è accaduto un po' ciò che è accaduto a quella signora che ha telefonato poc'anzi che aveva questo debito IRPEF che si era manifestato perché c'è un meccanismo fiscale è tutto da verificare perché ovviamente ogni pensione è un mondo a sé e ogni situazione va vista in modo assolutamente singolo è molto probabile che nell'anno 2018 siano state pagate le due pensioni in modo non corretto dal punto di vista della tassazione IRPEF questo ha evidentemente prodotto quando l'emissione del modello CUD è stata effettuata da parte dell'Inps nel mese di novembre un debito di carattere fiscale dov'è che lei trova questo riscontro di ciò che le sto dicendo nella certificazione unica nell'ultima pagina di riepilogo dei dati inerenti alla CU c'è proprio questo passaggio di conguaglio fiscale e lei lo trova lì mettendo insieme quel dato insieme alla liquidazione del 2018 della prestazione pensionistica di entrambe due poi dell'Obisem siamo in grado di verificare la correttezza le anticipo già che nel 99,9% dei casi quegli conguagli sono corretti perché seguono la tassazione quella IRPEF ordinaria possono non essere corretti solo quando si dimenticano di darmi delle detrazioni di imposta dei familiari a carico allora in quella nicchia di particolarità non ne ha dei familiari no no ma infatti in questo caso non ce ne sono quasi mai a meno che non ci siano dei figli inabili però in genere ho dei figli maggiorenni magari che non lavorano però insomma sono quasi molto particolari quindi in questo caso è probabilmente dovuto a questo passaggio la invito comunque a verificarlo perché adesso non è che quello che dico va bene per forza verificare se quello che ci siamo detti qui è corretto con i numeri e i documenti ma è molto probabile che quel debito IRPEF sia corretto da certificazione unica grazie niente signora buona sera buona serata nel senso che sono stati tanti tra l'altro quest'anno ma perché l'anno scorso è accaduto qualcosa di misterioso molti pensionati alcuni sono venuti in ufficio dicendo la pensione mi è improvvisamente aumentata erano quei pensionati che avevano delle detrazioni richieste o non avevano le detrazioni o avevano una doppia titolarità che in un qualche modo si sono visti aumentare le prestazioni e si sono preoccupati di dire io però non avevo chiesto niente qualcuno ha dato per scontato giustamente poi peraltro che l'istituto ciò che mi eroga sia corretto nel momento in cui loro lavorano la certificazione unica a ottobre barra primi di novembre i redditi vengono messi nell'unica pentola che serve per la dichiarazione però la certificazione unica che non dovete richiedere al patronato o all'IMS ve la scarica chi fa la denuncia dei redditi quindi non tribolate a cercare quella certificazione perché vi viene data direttamente da chi fa la denuncia se invece io non faccio la denuncia voglio verificare quello invece è un dato stampabile presso il patronato si può fare tenete conto che lì c'è appunto nell'ultima pagina della certificazione quel riepilogo che mi consente di sapere quali sono tutte le voci particolareggiate di quella certificazione i vi compreso l'eventuale conguaglio di carattere fiscale che io ho pagato e che l'istituto mi ha nel 90% dei casi trattenuto a rate sulla mensilità tra gennaio e febbraio qualche volta anche marzo in qualche caso è accaduto che quella certificazione dal punto di vista fiscale avesse effetto da marzo in avanti in qualche caso è accaduto perfino questo però quel dato lo trovate nella certificazione non è un dato che trovate sull'Obisemme l'Obisemme invece serve a mettere a confronto le due situazioni tenendo però conto che come per la mamma della signora se io ho ricevuto la prestazione pensionistica di reversibilità verso la fine dell'anno nell'Obisemme non me la ritroverò quindi dovrò ricostruire con l'importo in liquidazione appunto da quella liquidazione data dall'istituto in sede di prima domanda quindi insomma gli addetti ai lavori sono in grado di navigare su questa roba qui o ci provano però insomma un po' di documentazione ci vuole spesso e volentieri ahimè però questi conguagli fiscali sono corretti purtroppo noi stasera non abbiamo avuto occasione di parlare di tutto ciò di cui avremmo voluto parlare perché abbiamo ovviamente e sicuramente con molto piacere dato spazio alle telefonate da casa che sono quelle che ci rendono un po' anche le domande più significative che vi interessa di più sapere insomma i messaggi sono arrivati cercheremo poi di rispondere anche a quelli il passaggio sul riscatto di laurea ce lo riserviamo la settimana prossima nella speranza che ci sia la circolare perché quella che era uscita all'inizio di marzo è già roba vecchia perché è stata sorpassata dalla conversione in legge che contiene elementi nuovi perché per esempio l'età anagrafica e poi alcune particolarità che aspettano la circolare IMS per sapere se possono essere applicate per tutti ne ho assicurati dall'1196 cosa che invece da come era scritta la norma sembrerava di no ma già molti siti specializzati danno per scontato che il portale dell'IMS in realtà è già funzionante con qualche difficoltà di stampa della ricevuta ma stamattina ce l'abbiamo fatta e quindi io ringrazio te Ilaria della cortese partecipazione Paolo Ronzoni regia e Antonella Vacondio ringrazio voi ci vediamo lunedì prossimo in diretta sempre alle 9 buonanotte a tutti I diritti in diretta in collaborazione con CGL Inca Teorema